E' Yeh Hi buoni youtube, io sono Lachim e ben tornati a questo nuovo video Allora oggi c'è un'altra novità Sono ancora col telefono, si lo so vi sto rompendo i coglioni, non lasciate perdere Ehm, di nuovo, praticamente Mi si è fulminato l'hard disk, adesso Ehm, lo sto ancora... oscio Scusa Lo sto ancora rimodificando Perchè, insomma Con i giochi che ci sono ultimamente Mio computer non sta reggendo più niente C'è la tele che sfarfalla Allora Beh, te spegni, ok Non so come cazzo ho tenuto telecomando, non lasciate perdere Allora, ci saranno Ehm, alcune serie che partiranno Di cui una, ve lo spoilerò di Già Non trovo più il... Gioco Ecco qua Su questo Ehm... Ho già registrato una partita Però la devo riregistrare Perchè, insomma Avevo anche la webcam Ehm... Lo posso regolare da lì Nel senso che L'audio si sentiva quello delle cuffie Però la webcam, cioè Si vede... Lì Comunque Ehm... Per cosa volevo dire ad altro Sì, ho detto che il computer Si è ancora... Non è che era in riparazione Ma era da potenziare Quindi... Non so quanto ci vorrà Sono già due giorni Che sono senza computer E ragazzi, volevo dirvi Ehm... Perchè l'ho già detto in un video Però purtroppo poi mi ha dato un problema E non... Non me l'ha salvato Vi dico subito Io... Non sto più caricando video Perchè... Siamo 112 113 persone E... Però... Non c'è quel... Sostegno Ragazzi, lo sto facendo con... Vabbè... Ehm... Guardate... Vi metto qua Ragazzi... Vi metto qua Almeno... Tutta la Eva Ok... Non si vede... Lo so... Sto facendo figura di merda Lo so... Chi se ne fotte... Non vedo più sostegno Cioè... Non... Non... C'è stato un periodo che tipo... C'erano... 48... No... Ho tante qualcosa persone Iscritte a sto canale E... C'erano tipo... 68 visualizzazioni 40... Passa mi piace Cazzo... Moian... Un salto della madonna Però... Ehm... Non... Non c'è più... Non vedo più quel sostegno lì... Non so cosa è successo... Se avete i cazzi di forse... O non vi piaccio più come youtuber... Ehm... Ragazzi... Io adesso... Faccio una cosa... Io a ogni video... Chiederò... Un tot di mi piace... Se non... Ehm... Arriva... A quel... Tot di mi piace... Si chiude la serie... Se... Se per qualcuno... Piace una serie... O di Minecraft... O adesso di Black Ops... Oppure di qualsiasi altro gioco... Mi inviano cose su Whatsapp... O di qualsiasi altro gioco... Voglio... Vedere... Sostegno... Perché... Voglio vedere che la serie vi piace... Anche commenti... Anche in una serie... Che magari non so un cazzo... Ehm... Voglio vedere Sostegno... Perché io... Ho intenzione di iniziare un modpack... Bello... Nel senso... Realistico... Cioè... Come se... Stessimo nella realtà... Ho intenzione di iniziarlo... Perché... Vabbè... Anche perché è uscito da poco... Sul Technic Launcher... Se non mi... Sì... Sul Technic Launcher... Ehm... Mi piace... Cioè... L'ho provato due secondi... Ma è veramente molto bello... Ci sono tante cose da fare... Bellissimo... Però... Adesso... Voglio vedere... Sostegno ragazzi... Io finché... Ehm... Quella... Quel video lì... Che sarà intitolato l'episodio zero... Come ho sempre fatto... Finché quel video lì... Non raggiunge un tot di mi piace... Che chiedo... A fine video... Dico... A fine video... Quindi... Guardatevelo tutto... Ehm... Finché non raggiunge quel tot di mi piace... La serie... Si blocca... Perché se vi piace... La fate continuare... Ma che cazzo... La fate continuare voi... Non sono io a dire... Io faccio i video... Sì... Registro per voi... Ma siete voi a dire... Cazzo che bella serie... Guardiamocela tutta... Toscia... Non posso sbattere... Ehm... Guardiamocela tutta... Cazzo... Amici... Amici... Cazzo... Cioè... Siete voi a dirlo... Non è lo youtuber stesso... Ragazzi... Cioè... Se dovrei fare video... E non avere nessun sostegno... Io potrei registrarmi tutti i video che voglio... Editarli... Farli vedere i miei amici... Solo tramite telefono... E basta... No... Però li voglio caricare su YouTube... Per far divertire... Altra gente... Capito... Ah... Non pensate che io... Eh... Voglia guadagnare... Faccio... Un casino di video... Perché voglio fare visualizzazioni... Non me ne frega... A me... L'unica cosa che mi importa... È farvi divertire... Farvi vedere serie... Che vi potrebbero piacere... Ragazzi... A me dei soldi non mi avuto grazie... Perché sono tanti i lavori che potrei andare a fare... Oltre di YouTube... È uno svago... Per noi... Per noi ragazzi... Per chi vuole... Ragazzi... Bambini... Adulti... Tutti... Tutti... Anche i cani... Quindi... Ragazzi... Il sostegno... Il sostegno per le serie... Recitant Link... Cazzo... Sì che c'era sostegno... Cazzo c'era... Superavate sempre i 5 mi piace... A volte anche... Superavate anche i 10 mi piace... Certe volte... Outlast... Se arrivate a 5 mi piace... Però 35 di utilizzazioni... Cioè... Sicuramente qualcuno l'aveva visto più di una volta... Perché magari... Si sarà divertito... Ragazzi... Se è una serie vi diverte... Eh... Fatela continuare... Nel senso... Magari... Per le serie... Adesso richiedo almeno 10 mi piace... Almeno... Scrivo cose random... Sostegno... Lo so... Ve l'ho ripetuto tantissime volte... Ma io... Nei video... Quando alla fine chiedo... Lasciate mi piace... Anche la pagina in Facebook... Come si può dire... Come nella descrizione... Quelle robe lì... Non lo chiedo solo perché... Voglio avere 10 milioni di visualizzazioni... 300 miliardi di mi piace... Non chiedo proprio quello... Chiedo solo... Eh... Un po' di sostegno... Perché dietro... Un video... Dietro questo video non c'è nulla... Perché lo... Lo sto facendo... E così lo carico... Perché non posso editare... Dietro un video... Ci sono... 3... Ore... Di lavoro... 3 ore... Ragazzi... In un video di 15 minuti... Io... Registro il video da 50 minuti... 50 minuti di video... Che... The Force... Eh... Minecraft... Adesso c'è stato un periodo... Che facevo video da 30 minuti... E li caricavo così... Come venivano... Ma perché era all'inizio... Adesso crescendo... Anche col canale... Come testa... Forse... Scherzo... Eh... Insomma... Dici... Cazzo... YouTube devi... Mettere... Più effetti possibili... Per far ridere... Troppi... Non va bene... E... Voi non mi credete... Ma... Io... Quando... Registro... Un video... Anche quando... Lo sbaglio... Io le parti fail... Le tengo... Perché sono parti divertenti da vedere... Una volta si faceva così... Adesso non so... I tempi sono cambiati oramai... Ehm... Niente... Voglio solo questo... Sostenete tutte le serie... Ragazzi... Quelle che vi piacciono... Quali che non vi piacciono... Lasciatemi un commento... Dici... Magari... Lachim... Questa serie... Non mi ispira tanto... Guarda... Però ti consiglio... Una serie che potresti fare... Che potrebbe piacere... È buona... Cioè... Ragazzi... Potete decidere anche voi... Non decido solo io... Il canale... Siamo in 113... 104G... Compreso me... Siamo in 104G su questo... Canale... E... Ragazzi... Quindi ragazzi... Io dovrò in poi... Sostegno... Sostegno... Quindi... Se il video vi è piaciuto... Come è stato lasciate mi piace... Anche la pagina di Facebook... Che ho sempre ricordo... Nella descrizione... Fatemi sapere cosa ne pensate... Cosa volete che faccia... Ok? Perché... Insomma... Sono un po' accorto di idee... Ero un po' accorto di idee... Anche prima... Perché... Insomma... Avendo un computer del merda... Quindi ragazzi... Sostegno... Commento... Ehm... Un'iscrizione... Ragazzi... Se il video vi è piaciuto... E... Quando arrivo al computer... Anzi... Magari qualche... Caricherò anche il video... Talmente... Premete il cellulare... Così... 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 Per... Perché mi va... Anche il vlog... A cazzo... Iscrizione... E noi ci vediamo al prossimo video... Hai due pacchiotti... Uhuh... Per chi c'è... Non mi riesci mai...